Oh eccoci qua ragazzi bentornati su Horizon Forbidden West siamo qua con Aloy e oggi continueremo quel approfondimento che abbiamo iniziato nel precedente episodio ovvero andremo avanti con le missioni secondarie che ci siamo fatti assegnare grazie a Yutaru quindi continuiamo con Lontani da casa che è una missione secondaria di livello 15 noi siamo al 19 quindi già siamo abbastanza alti però queste missioni dobbiamo farcele sì per un approfondimento narrativo sì per un approfondimento delle tematiche sociali legate alle tribù e anche per potenziarci ovviamente nel precedente episodio abbiamo anche ricevuto in dono come ricompensa un bell'arco che purtroppo non andremo ad usare perché andando avanti con la storia ho fatto la minchiata si può dire possiamo dirlo di comprarne uno da un mercante e sarebbe stato molto meglio fare questa missione anzi la precedente missione e usare quel quell'arco in regalo vabbè vabbè non fa niente quindi tornando ad oggi lontani da casa missione secondaria Jax Unutaru vuole aiutare una squadra di Tenakt che già fa abbastanza ridere però è così ma è pericoloso avvicinarli senza qualcuno che ti guardi le spalle quindi andiamo a parlare con Jax e vediamo un po' cosa succede eccoci qua è una fortuna a trovarti qui il mio nome è Jax dei Tenakt si riparano nella caverna saranno nei guai forse hanno dei feriti sono qui per aiutare ma non vorrei che lo interpretassero come un insulto nonostante il bisogno puoi venire con me ti ho vista rivolgerti al coro so quanto sei persuasiva e se si mettesse male mi sentirei più forte con te accanto proviamoci ehi voi questo campo è della squadra Aquila ritiratevi o morirete calma Aquila non voglio combattere solo trattare tu conosci quel gesto facci passare parliamo fin qui tutto bene ne avete fatta di strada dal deserto lui è stato accecato wow non ti sfugge niente eh la missione d'addestramento non è andata come per visto vi aiuteremo se vorrete come fa Onutaru a sapere che eravamo in missione sa anche come richiedere una trattativa non è Utaru ne è Tenakt deve essere un veterano un veterano credevo non ce ne fossero più è un patetico bracciante a noi non serve lo ammetto la cosa sorprende anche me sorella vogliono solamente aiutarci perché impedirlo che cosa ci perdiamo che significa veterano sono nato Tenakt poi diveni un tributo per gli utaru tributo durante l'abbondanza gli utaru donavano ogni anno cibo ai Tenakt per mantenere la pace col tempo si passò allo scambio di persone a Tenakt servivano giovani per le lotte tra clan e agli utaru soldati per addestrare i difensori di canto puro io ero uno di loro ero è la parola giusta la mia lancia potrebbe salvarti giovane una missione di addestramento caccia alle macchine l'ultima prova prima del servizio effettivo andava tutto per il meglio stavamo anche per abbattere uno squarciavento prima che scappasse tra gli scavazzanna uno ha caricato corre lui l'ha schivato e gli ha inferto un colpo mentre passava ho preso un serbatoio d'acido ho sentito subito gli occhi bruciare una terribile ferita è stata tutta colpa mia non li avevo visti no sono io che non ho visto il serbatoio che vi serve? delle scorte carne secca, munizioni, armi, attrezzatura da campo è molto solo per ritornare nel deserto quello che ci serve è a guardafiume si tratta di un grosso bottino di guerra rimasto là dalla rotta la rotta? quando i nostri hanno respinto i cargia fino a luce arida hanno voluto inferire sui gheppi per farli soffrire il maressollo Kenira ha colpito dei cargia in fuga dall'alto di guardafiume e si è tenuto il bottino è ancora tutto lassù ci sta aspettando ma quel posto è infestato da macchine micidiali e le stesse rovine stanno per crollare macchine e vecchie macerie dovrebbero far paura alla squadra aquila no ma quelle ferite sì io e Jax possiamo trovare le scorte è la nostra missione non la fideremo a della gente che bene vieni con noi bene voi mantenete la posizione tornerò attenta sorella ok vediamo un po' questo bottino quasi quasi l'ammazzamo e gli fregamo tutto non scherzo appena avremo quelle scorte si sistemerà tutto se lo dici tu che cosa vorresti dire le condizioni di tuo fratello non ti riguardano bracciante se lo dici tu falla finita calmati vogliamo solo aiutare ricordi se lo dici tu ma perché dicono sempre se lo dici tu ma basta signori fai dei seri facciamo un fiume così eviteremo gli stranieri sulla strada no sono intrusi sono stranieri queste terre come te e Agu ah qualche problema io detesto bagnarmi forte come un razzatore ti ho sentito c'era anche un gran di fauci lì che non ci ha visto per fortuna ok arrivati l'ingresso sarà sotto quella arcata cosa troveremo qui bloccata di qui non si passa controlliamo sui lati oh ma non ho ancora l'override per quella macchina cercherò altri calderoni ah guardate lì sono ben due oh l'ho atterrata ok ma io ho fatto nulla ottimo ora si dammi 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 frecce ok bene che manca ahia ma siamo mate dov'è ah va boom ok 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 sopra più su del previsto ed è troppo in alto per la squadra aquila cosa vorresti insinuare vecchio basta sono brava a scalare le prenderò io vieni possiamo staccare parti da quelle macchine magari impari qualcosa e che cosa può saperne un bracciante di queste cose io ho decenni di esperienza mentre tu è solo da poco che sei al mondo secondo voi quando torneremo sotto chi è che sarà morto uno dei due allora dobbiamo trovare l'accesso 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 ok potrà salire da qui ok qua c'è un posticino per noi ok ok ah che bello me lo godo me lo godo cavolo me lo godo ti accende anche la luce in questi luoghi tetri via bloccata sono dei funghi ok ok si sale ne abbiamo trovato un altro qui devo dire che quando si trovano degli interni in questo gioco sono molto preziosi tralasciando diciamo la parte del mondo di metallo in cui è tutto all'interno ovviamente vediamo un'altra cosa no qua non c'è più niente mi ha fatto aprire questa cella ma dentro il nulla quindi questo il nulla strano su ho visto già che mi posso agganciare da qualche parte si vediamo 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 ho le corde oh si aloi non l'ho vista queste corde c'è molto legno marcio qualcosa di pesante potrebbero ok ok bene bene vediamo se magari si può salire di qua a questo punto penso che serva qui si è anche riposizionata dai palese no così eh aloi aloi grazie grazie se forse era giusto troppo piccola non hai ok ci arriviamo ci arriviamo oddio oddio andò sono finito aiuto ecco bene ah possiamo abbassare la scala shortcut semplicemente rimanere fermo qui voglio prima vedere c'è qualcosa qua oh che bello eccolo che c'hanno ah scorte belliche semplicemente ok sono queste le scorte non dureranno molto oh beh non posso lasciarla solo un attimo andiamo eh 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 sentivo puzza di rottura di scatole oh qua ci sono materiali buoni momento 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 io mi rubo tutto qua sentite la musica ecco ecco Jack se soccorra devo andare là dentro e abbattere quelle macchine buonasera grandi fauci ok grandi fauci ma cosa cosa è debole lei comunque questa cosa dovrebbero sistemarmela perché all'acqua se non sbaglio all'acqua si ma chi ce l'ha le cose per l'acqua mi sta rompendo lì chi è fammo così va io ce la lancia forte perfetto guarda qui c'è amico mio pure coda frusta guarda guarda ok venite devo cercare altri calderoni per il suo override vabbè ma i coda frusta non sono normali saltano sempre ok controlliamo già che soccorra diciamo che questa missione secondaria era un po' più da non lo so non da approfondimento semplicemente era un aiuto un bel lavoro aquila ma avrai evitato di provocare quella bestia che hai trovato praticamente nulla soccorra qui ci sono viveri al massimo per un giorno e delle erbe medicinali marce dovevano essere di più almeno per non volevi tornare a casa vero che cosa un tenakt cieco è inutile e se non può combattere i tenakt uccideranno corre perché è cieco dovrà affrontare una macchina per loro è più dignitoso ma è comunque una sentenza di morte volevi altre scorte per sopravvivere lontano da casa pensavo bastassero per un po' non possono stare a canto puro canto puro ritiro tutto quello che ho detto il coro non lo permetterebbe andiamo via io accompagno questo bocciolo vediamoci alla caverna devo assolutamente ritirare tutto quello che ho detto perché questo è stato un vero e proprio colpo di scena non me l'aspettavo anzi è molto carina questa cosa abbiamo scoperto un lato di soccorra che è molto meno guerriero senza cuore voleva salvare quel ten act che è diventato cieco e che è costretto quindi diciamo alla morte perché dovrà affrontare una macchina per diventare appunto un ten act e come fai con questo con quel tipo di disabilità soprattutto abbiamo visto abbiamo già conosciuto guerrieri che riescono a combattere ancora senza magari un arto ad esempio un braccio ma perdere la vista è impossibile ok ragazzi arriviamo lì in dove ci dice la missione in quella caverna ci sarà un piccolo taglio come faccio a dir loro che ho fallito racconta la verità pure semplice stavamo per entrare a lui che cosa dirai che ci arrangeremo e che sopravviveremo senza scorte sarà molto dura per voi meglio che tornare indietro e condannare corre deve esserci un altro modo a me non sembra allora ci siamo ben riforniti niente scorte ma ce la caveremo comunque non morirete di fame a causa mia lasciatemi qui no jax hai detto che canto puro ha già troppe bocche da sfamare ma se fosse mio fratello non lo abbandonerò mai a canto puro sarà salvo le tornerete tutti a casa non vedo altre soluzioni il coro non approverà ma se garantissi per lui condividendo le razioni potrei convincerli lo farò se corre vuole no tu non lo prenderai soccorra credo che sia la soluzione migliore sono soltanto un peso per voi te lo sto chiedendo io fammi andare con lui te lo concedo tu però ricorda che non è un addio verrò a trovarti accanto puro e nessuno taru o tenata mi potrà fermare io non ci proverei darò loro un aiuto a sgomberare poi tornerò a concorre hai mostrato forza e saggezza combinazione rara te ne sono grato e sicuramente anche loro ok è andata anche questa l'ha messa in scena è durata cioè questa missione secondaria è durata pochissimo ma l'ha messa in scena la scrittura di questa missione è stata totalmente inaspettata molto molto ben scritta molto bella e anche la musica sotto in quest'ultima scena totalmente totalmente con regia regia dal vivo è stata molto 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 appagante molto emozionante devo dire e sono contento sono molto contento ragazzi ok quindi abbiamo salvato in teoria Correa se non sbaglio si chiamava Correa e sua sorella soccorra tornerà dai Tenacht Potrà continuare a vivere senza nascondersi quindi ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi andremo avanti ancora la prossima missione sarà il promontorio e niente ci vediamo alla prossima attivate le notifiche del canale ciao ragazzi ciao ciao